Ciao ragazze, oggi volevo farvi un altro video, ma mi è appena suonato il corriere e mi è arrivata la mia prima Glossy Box, quindi volevo aprirla con voi. Ho deciso di abbonarmi a Glossy Box perché nonostante quello che dice la gente che emettono prodotti brutti di qui e di là, io questo è un discorso che sinceramente non capisco, perché costa 14 euro, io non pretendo che ci siano dentro prodotti MAC, però è interessante provare prodotti nuovi, mese per mese. Questa è la Glossy Box di settembre ed è rosa, allora vediamo cosa c'è dentro, allora beh, c'è il solito fiocchettino, ho visto anche altri video, arriva sempre con questo, ah, se sentite la voce sono raffreddata, ho l'influenza, vabbè, dicevo, arriva sempre con questo fiocchettino che quasi mi dispiace di sfare in realtà, però vabbè, allora vediamo cosa dice. Care Glossy Girls, era il 1960 quando la bellissima Anita Egberg immergeva le sue grazie nell'elegante fontana di Tremi, di Tremi, non ce la posso fare oggi, nell'elegante fontana di Trevi e la romantica città di Roma faceva da cornice a uno dei film più belli della storia del cinema. Tutta la femminilità racchiusa in un abito lungo, capelli biondi boccolati e eyeliner nero. Anche voi, come la scintillante Anita, liberate i vostri sensi ed immergetevi nei nuovi prodotti della vostra box. Scoprite anche questo mese la doccezza delle piccole cose e regalatevi coccole e bellezza. Non perdere la Glossy Box Anniversary. Ma è questa la Glossy Box Anniversary? No. È l'anno, eh sì, è l'anno dopo, è il mese prossimo. Ragazzi, scusatemi, oggi proprio non ce la posso fare. Allora, vediamo cosa c'è dentro. Allora. Ci sono le... delle cartoline, c'è una cartolina di Codalì. Nuova linea antietà di Codalì e i Derma, a Derma, anzi. Con tutte le cose qui così, ok. 10 euro di sconto da Zalando, buono, perché ho visto una borsa che mi piace un sacco da Zalando e vediamo che cosa c'è dentro. Allora, balsamo labbra. Riparazione intensa, lenisce e ripara di Aderma. Oh, mi serve proprio un balsamo labbra. Vediamo com'è, anzi. Lo apro di qua. Sembra carino. Vedremo poi com'è. lì. E infatti di Aderma mi hanno mandato appunto il... no, il coupon, il... il Dplian, diciamo, con tutte le spiegazioni, poi me lo leggerò. Poi abbiamo... vino expert fluid bonmin SPF 15, per tutti i tipi di pelle. Che cos'è? Ah, radiance day fluid, è una crema. Qua dice applicare mattina e sera sul viso e sul collo da solo o dopo il vostro siero. Evitare il contorno occhi. È inutile che senta l'odore perché tanto ho il naso tappato, quindi niente. Poi, idro setting, crema idratazione profonda con collagene e serum marine. Non penso che la userò perché è idratazione profonda. Io ho la pelle grassa. Comunque di Verde Oasi, Natural Cosmetics. Poi, shampoo idratante. Anche questo non me ne farò assolutamente nulla perché ho i capelli grassi. Per capelli secchi, infatti qua c'è scritto. Benissimo. Penso che non me ne farò nulla. Comunque della Keun, penso si lega così perché è di Parigi. Soapure Natural Balance Moisturizing Shampoo for dry hair, senza solfatti e parabeni. Ilang ilang, olio d'argan. Penso che questi due non li userò perché non penso che me ne farò niente. E poi c'è uno smalto di Boo. Pro White Original, Effect Black, Effect Polish. Ah, credo che sia uno smalto sbiancante che mi serviva proprio, quindi questo ci sta. Anche questo siro qua, cioè questo fluido qua, c'è scritto per tutti i tipi di pelle. L'unica cosa forse sono i due, lo shampoo per capelli secchi e la crema idratazione profonda, che non me ne farò niente. Vediamo qua la spiegazione cosa dice. Allora, qua sono gli ingredienti dei prodotti. Cavolo, c'era, potevo anche ricevere qualche prodotto di Mavala, di Revlon, di Criolan, di Paola P. Makeup, L'Occitane. Va bene, sono stata un po' sfigata, ma va bene. No, vabbè, comunque tutto sommato mi piace. Ecco, l'unica cosa sono questi due, il fluido idratante con collagene e lo shampoo, cioè dello shampoo proprio non me ne farò niente. Non saprei neanche a chi darlo, veramente. E niente, questo è quanto. Ora penso, ecco, ho fatto già casino. Penso che la scatola la conserverò, perché mi ispira un sacco. E niente, qua ci sono gli ingredienti. Che altro vi volevo dire? Basta, che adesso mi guardo un po' questi prodotti e niente. Ah, ecco, questo... Dov'è? Dove sei? Questo qua, sì, questo qua, sì, ve l'ho detto, è di Codalie. Siero di giovinezza infinita. Ecco, vedete, c'è il... Non ce la posso fare oggi. La brochure lì, come cavolo si dice. Sì, è un siero. Va bene. Tutto sommato, a parte quei due prodotti, il resto, anzi, sono cose che mi servivano. Quindi va bene così. Poi c'è anche il 10% di sconto da Zalando. E volevo appunto prendere una borsa che ho visto. Quindi, sono più che contenta. Niente, questo è stato un video un po' così. Fatto un po' alla cavolo. Volevo solo aprire con voi la mia prima glossy box. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao!